Mamma mia ragazzi che partita allucinante tra Milan e l'Inter oggi, veramente una partita non bellissima, cioè bisogna dire che in alcune fasi veramente non è stata bellissima, però con un risultato clamoroso. Milan che recupera due gol negli ultimi 15 minuti con un gol al 97esimo in mischia di Zapata che non sa neanche lui come la presa, sbilenco, traversa, riga, fuori, veramente una partita allucinante. Io ero convinto dopo il primo tempo che l'Inter avrebbe vinto sicuramente perché comunque era in doppio vantaggio, stava gestendo bene la partita e nel complesso stava meritando il vantaggio perché il Milan aveva creato molto all'inizio, però poi si era spenta col passare dei minuti, spenta col passare dei minuti. Però poi nel secondo tempo veramente è successo il finimondo, è successo tutto quello che tu non ti aspetteresti da una partita normale ma che invece ti aspetti da un derby. Noi romanisti comunque l'abbiamo visto nel derby con la doppietta di Totti che comunque queste sono partite strane che anche quando fino all'ultimo secondo pensi che ci possa essere il risultato a favore di una squadra basta una minima disattenzione, una minima palla sfiorata in aria e subito può cambiare tutta quanta la situazione. Dal gol del 2-1 del Milan si è visto che si poteva arrivare anche al pareggio e alla fine è arrivato nel modo più impensabile possibile con uno dei giocatori, secondo me, più scarsi di sempre. Non me ne vogliono i Milanisti, però Zappata per me è veramente scandaloso ed è riuscito a segnare sia alla Roma che all'Inter, pensate veramente le qualità di questo giocatore. Ma comunque parlando in generale della partita il pareggio nel complesso è risultato più giusto perché entrambe le squadre hanno creato molto però hanno avuto quelle piccole disattenzioni in difesa che in queste partite paghi. Diciamo che l'Inter ha fatto nel primo tempo quello che io gli avevo consigliato di fare nel video in cui avevo parlato di questa partita e cioè attaccare il Milan e sfruttare quelle poche occasioni che si possono avere durante l'arco della partita per segnare e mettere la partita nei propri binari. Anche il Milan ha cercato di seguire il mio consiglio e cioè di attaccare subito a sprombattuto e mettere in difficoltà l'Inter con qualche gol nel primo minuto. Però se in un caso il Milan è stato più impreciso e ha sbagliato più occasioni l'Inter è stata molto più cinica. Guardiamo anche l'esempio di Cardi che nel primo tempo ha toccato un pallone, non lo dico tanto per dire ma ha toccato un pallone e lo ha tramutato in gol. Quindi alla fine del primo tempo l'Inter è in vantaggio per 2-0 grazie a un gol molto bello di Candreva su anche disattenzione di Desciglio e Donnarumma, quello bisogna dirlo perché entrambi gli hanno permesso di entrare in aria e di battere a porta con una discreta tranquillità e facilità. E il 2-0 di Icardi che ha sfruttato un assist bellissimo di Perisci dalla sinistra. All'inizio secondo tempo ho visto un Milan più arrembante e un Inter che ha cercato di chiudersi di più. Però comunque l'incipit della partita era rimasto pressoché lo stesso, cioè con l'Inter che si è chiusa un po' e ripartiva un contropiede. Il Milan che continua ad attaccare ma che non riesce mai a sfruttare le proprie occasioni. Per parecchie volte è successo che Andanovic è uscito lasciando la porta sguarnita però né Bacca né comunque gli altri attaccanti sono riusciti a insaccare in porta. Dell'attacco del Milan devo dire la verità Bacca non mi è piaciuto per niente mentre invece dell'UFO mi è piaciuto veramente tanto. L'unica cosa è che forse è un po' troppo confusionare nel senso che lui corre tanto, fa i bad dribbling però in alcune occasioni quando c'è da mettere la palla decisiva in aria oppure da fare il tiro in porta si perde un pochino. Ha preso un palo nel primo tempo quindi comunque la sua prestazione è pienamente sufficiente, secondo me è stato il migliore del Milan però ancora gli manca qualcosa per essere considerato un vero campione. Comunque negli ultimi minuti della partita il Milan accorcia le distanze con un gol abbastanza fortunoso di Romagnoli che colpisce molto bene con il destro, trova una difesa impreparata e grazie a una diviazione mette il risultato sul 2-1. Dal 2-1 in poi è iniziata un'altra partita perché l'Inter ha cominciato a soffrire molto la dinamica offensiva del Milan, il Milan ha continuato ad attaccare alla ricerca del pareggio, ha messo tutti gli attaccanti possibili da Ocampos, da Padula, Bacca, ha fatto praticamente un 4-1-5 se così si può dire e ha messo tutti gli attaccanti in aria di rigore. L'Inter è riuscito addirittura a guadagnare tempo con una cavolata di Locatelli che ha scalciato Nagatomo inutilmente, anche con un tiro di Bebbiani, io su quel tiro gli ero convinto che la partita fosse finita perché era l'ultimo minuto di gioco, invece l'arbitro l'ha detto, visto che il tempo è stato fermato per diversi minuti, li avrebbe recuperati con altre tanti minuti. Quindi il Milan si è riversato in aria, è riuscito a guadagnare un angolo nell'ultimo secondo, palla in mezzo, Zapata scolpisce con un destro sbilenco e mette la palla all'angolino e grazie alla tecnologia del gol non gol si è capito subito che la palla era entrata. Quindi il Milan prende per i capelli un derby incredibile, uno dei derby più belli degli ultimi anni, veramente un derby favoloso, un po' meno positivo per l'Inter e sicuramente più positivo per il Milan, però nel complesso si è vista veramente una partita bellissima, molto molto bella. Sono rimasto da tifoso esterno veramente molto soddisfatto. Certo l'Inter ha dato a recriminarsi una pessima gestione negli ultimi minuti perché tu, stando in vantaggio 2-0 per praticamente 70 minuti di 90 complessivi, non puoi abbassarti così tanto e subire questi due gol buttando all'aria una partita che per molto tempo stavi portando a casa anche in maniera abbastanza tranquilla. Per il Milan secondo me il miglior in campo assolutamente De Lufo e voglio premere anche Zapata per il gol nel finale anche se nel complesso la sua prestazione non mi è piaciuta particolarmente. Mentre invece per l'Inter premio assolutamente Icardi e Perisic che anche Perisic mi è piaciuto molto però anche lui come De Lufo ha sbagliato alcune occasioni solo davanti al portiere. Invece di passarla al compagno ha preferito tirare e la scelta non si è rivelata spesso azzeccata. Comunque è una partita molto bella e speriamo che tra pochi minuti Roma-Atalanta possa far vedere un altro spettacolo però ovviamente verso la sponda giallorossa. Fatemi sapere nei commenti voi che se ne pensate di questa partita, fatemi sapere chi è stato secondo voi il migliore e il peggiore, fatemi sapere chi secondo voi ha meritato o meno. Lasciate un mi piace se questa recensione vi è piaciuta e noi ci vediamo dopo per la recensione di Roma-Atalanta. Un saluto e sempre Forza Roma! Ciao ragazzi!